Purtroppo dovrà Doc, lei dovrà Scrivere tutto il tempo Perché UBS è bello E non vuole usare le belle cose Che bello Non c'è mai niente che mi può andare bene Eh Doc A lei le vanno bene le cose Scheletro di merda Stai facendo Picchi l'aria Può scrivere in chat se lei mi sente Puoi scrivere se mi senti Mi senti o no imbecille Non mi sente vero Vabbè faremo così Lei Doc scriva in chat Perché io non ho voglia di niente E si muterà su TeamSpeak Perché non la voglio sentir tiribla Va bene Sì io ti sento però poi in live Sembra Sus quindi no Monta Team Che è meglio Sus Un cane Dio cane Un cane Dio cane Che cosa guarda il cane Dio cane Non lo sapremo ma Signor cane Dio cane Cosa sta facendo lei S Doc non dica le brutte cose Allora Doc Noi dobbiamo andare nel nether adesso Lei lo sa questa cosa vero Eh Doc è eccitato Lei è eccitato Mi faccia un bel sì così con la testa Ragazzi mi sa che bello eccitato oggi Eh sì Doc Oggi Oggi No no si rimetta pure giù Si rimetta pure giù Si rimetta giù Doc Si rimetta giù Oggi Abbiamo il deroctosus Vabbè è vero possiamo anche incantà S Doc mi può prestare dei lapis Ho i lapis o i diamanti S Doc mi dia i lapis La prego non ne ho Cioè li ho ma non ho voglia di prenderli Doc la prego due lapis Suss Oh un feather falling Unbreaking anche no Qua abbiamo protection Levati dalle palle Beh Voilà Va bene full protono No Doc Io la lascio nuda Eh Andiamo Doc Andiamo Doc venga Doc venga fuori Perché c'ho Ah ma c'ho i cosi limitati Ecco perché S Doc venga fuori Che le faccio assaggiare una bella cosa Eh Doc Venga su S Doc Che c'è ha paura di venire fuori Si però i cani fuori casa che abbaiano Sono proprio belli eh Doc venga fuori La prego Voglio farle assaggiare una bella cosa Doc Me la prego Venga fuori Venga fuori S Doc Che sta facendo questo adesso Ma dov'è Ah Salve Come va Quello è Tommy L'hanno fatto diventare così Uuuuh Le scarpe d'oro Doc Ma lei è ricco Non quanto meglio Ho un bel derogtopus in testa Doc È molto più sus di lei Ricco di torce Sai quanto me ne frega delle tue torce Guarda qua Casa di Tommy è sempre più bella eh La moda delle tia al contrario Rimane Diciamo che ne approfitterò Per Sfruttare la sua piantagione di bambini Vero Doc Che Tommy pianta i bambini sotto terra In casa mia Che succede in casa mia Uuuuh Doc Ma questa è una t giusto Al contrario Non sto ben vedendo Ma qua c'è un doppione di sé Non tocca Ti apro il culo Non mi spostare dai Smettila Non mi spostare Allora S Doc Però io Sono sus Lasciamo questi qui E va bene così Dai Doc Ha dei fili Lei Dove che c***o è andato questo Eh Per infilarmeli nel c***o No I fili si infilano No No più Sus Ultra Sus Sei ultra ht4g Super sdoc Ne ho 5 Me ne dai 3 Sono per una buona causa Te lo giuro Tengo 5 fili Lei è diventato napoletano eh Ah Sus Mi sa che dopo lo divento anch'io Doc O magari domani Vediamo Mi dai fili Doc La prego Oh Molto sus eh Visto che lei ha fatto un advancement su di me Prima adesso l'ho fatto anche io No No Doc Guardi Mi nascondo dietro il pipo di porte Il porta pipo Il porta pipo Bello Stoc Stoc No no Penso che non ci sia su Minecraft Quello advancement Sicuro? Beh Se lei si mette in posizione Io non posso che fare Ah Perfetto Ahia Mi hai tolto metà vita Andiamo Doc Andiamo Doc Sì Se sapessi scrivere Guarda Doc Mi dica dove vuole fare il portale Prendo il cibo Mmm Doc Ma lei non può cibarsi Solo io mi posso cibare di Patate Però mi sembra Mi sembra doveroso Che prima o poi Sfileremo la dera oxford Doc Vieni a fare il portale Quindi Oh Oh No Doc No Doc Quella era la mia Era mia Era mia Quella freccia Aiuto ragazzi Mi vuole Aprire il sedero No Dove vogliamo fare il portale? Sdoc Allora venga Lo faremo Sulla montagna Doc Su quella montagna Là in fondo Al centro Ma no Dai lo facciamo Su una montagna Sul montagnose Sdoc Venga Perché lei si denuda? Ma lei fa le cose Sus Direi che su quel piccoli Va bene Ma Lei spacca l'erba Doc Ha a che fare Con l'erba Lei Mi sa di si Spesso Eeeh La capisco Poi lo faremo bene Adesso lo facciamo soltanto Un po' così Quello da 10 No No Perché Devi Vabbè è un easter egg È un easter egg Sdoc Faccia il metodo Di risucchio Faccia il risucchio Magic Oh è sparito Il doc Wow Andiamo a vedere Dove è finito Il doc Oh Sdoc Ma siamo Siamo su Nel Nel Bello Andiamo Sdoc Magari Mi metto giusto Questa Sdoc Lei Esus Andiamo Magari ci salviamo Le coordinate Che ne dici Screenshot Andiamo Sdoc Posso farla Farle fare Il volo Posso farla volare Penso che le piacerebbe Volare a lei Sdoc E Il bastone Il bastone Il bastione Sì Allora Sdoc Dove vogliamo andare Io le direi Di andare Magari più giù Doc Venga L'aiuto io Se lei non riesce A camminare La Aia Oh E che cazio Andiamo Sdoc Sdoc Venga Però non voglio usare L'armory in via Uh Sus Sdoc Guardi Scala muro Scala muro Signori Doppia scala Muro Cappella Doppia scala Muro Cappella Altro che Fortnite Fortnite Questa è vera Scala muro Non so neanche Spilbrigare Sdoc Venga Dov'è quello Vuoi venire Imbecille Questo è Susbridge Oh Salve Ma Ce la fai? Ok Ok Dove possiamo andare? Siamo a livello 86 Doc Possiamo scendere Andiamo Andiamo Giù Sdoc Venga 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 nel buco Dov'è andato? Eccolo Ragazzi Svegliamolo Probabilmente dorme Si stava dormendo Poverino Aia Mi ha rotto I pielini Ma Anve di te Questo Si con l'acqua Nel nether Proprio eh Bravo Ma Io non lo so Quanto è stupido Questo Ma si Quanto è passo Sto nether Oh Doc Ma una shadersina La mettiamo Le sildurs Che sono sempre belle Oh Esploso Esploso Minecraft Sdoc Scenda Sdoc Ha due Ha giusto Una torcia O due O anche Un pochettino Di carbone Grazie Sì però Io vorrei capire Fin dove arriva Sto posto Siamo già Ad altezza 30 Tra poco E 40 Volevo dire Proviamo a scendere Di qua Sdoc Mi aiuti Un po' A scavare Oh Vedo la luce Nio Sdoc Ho trovato L'uscita Very sass Bello che è un buco Che non porta niente Ah Io vedo Un'altra persona Che Con il soprannuo Finisce con Ce Cecoce Precoce No La torcia Sdoc Ma è Very sass Forse Siamo usciti Da qui Sdoc Venga avanti Che imbecille E lui fa L'imbecille Perché lui piace È un luogo Suss Questo Non ha Non ha Niente Sdoc Andiamo Direi che di qua Magari troviamo qualcosa Sperando ci sia qualcosa Doc Doc Ma lei è moruto E beh Mi sa di sì Sdoc Però lei è stupido Poteva farsi un buco Dentro Dentro All Invulnerabilità Eh non lo so Mi sa che nel nether Non funziona Forse nel nether Il plugin E sus Vabbè Le faccio una cesta Nulla Non è successo nulla Allora La cesta Del doc La cesta Docosa Diciamo Che Ehm Non è che si sia salvata Falce Va bene Queste sono mie E Sdoc Se mi dice Che cos'altro aveva Però mi sa che Non le si è salvato Molta roba Purtroppo Sì però Ora doc Lei deve venire qui Perché Però io Sta roba la tolgo Che almeno Mi metto in dia La rifaccio Ok Dai muoviti Vieni qua C'è il TPA In sto mondo No Che texture hai Ehm La texture È quella di Emerald Più la live Lì che È una texture Che potete trovare Su internet Anzi ci ho fatto Un video Sul mio canale Quindi Se volete Punto esclamativo Youtube E andatevelo a vedere Un video bello Eh sì doc Quanto il suo pisnello Però ora dovrebbe Venire qui Perché Sì molto lungo doc Doc mi può dire Dov'è che gli comincia A bruciare la roba Casa Eh vieni qua Vada Andiamo a prendere Il doc Ragazzi Si prova ora A sapere Da dove l'ho sceso Più o meno Da qui no Sì Sì E poi Ah da qua Doc ho trovato La strada di casa Se lei viene al portale Ma dov'è L'uscita di sto buco Hai cibo Eh sì Un po' Prendi tutto il grano Che c'è Magari mi tengo Le carote D'oro Appresso Così non rischio Di crepare Doc venga da me Però Da dove eramo Ah ecco Da qui Doc venga Oh no Minecraft Sì Ecco io Doc Dov'è lei Ha la sua casa Si può chiamare casa Quella roba Perché non mi fa correre Casa di Ma lei non c'è qua Doc Doc ma dov'è Io non la trovo Porco No ma non è successo niente Nessuno ha visto Niente Ho visto come nuovo Doc Doc Ma dov'è questo Casa 3 Vabbè Poi Cassa Sarà casa mia Sto str***o Non lo so io No Che hai fatto Cassa che hai fatto Ma mi avevi detto Che eri a casa Ma Ehi Doc Quindi sei nel Nether Ah Dillo prima Vado a prendere Il cibo Nethercim Eh vabbè Sì Ok In arabo Però eh Impasto Che cazzo Che vuol dire Impasto Impasto Ai pescigani Tocca arrivo da lei Ti darò un po' di pane Vedo Il pasto Che lingua è Mi spieghi Cos'è il pasto Comeridiano Il cibo Non lo so io Eh vabbè Doc La smetta di bestemmiare In arabo Però eh Tutto bloccato Come sempre Ok Do Eradoxi Ah Certo Perché io Ti credo eh Pepercelti Che cazzo Vuol dire Lì tua Ah ma va a cagare No Basta Basta doc Basta scrivere cose Ah eccolo Il doc Salve Come va Oh Devo dire Come va Vok Lei sta bene Perché la mia Ma che cazzo Va bene Andiamo avanti Tieni Eccolo C'è un buco qua Ah il cibo È vero Doc Venga qui Per il momento Le do Questo Voglio capire dove Minchia siamo Oh e dai Dimmi che c'è un punto Dove possiamo uscire Ecco Sdoc Uh Carino Sdoc E ma dov'è E ma dov'è questo Napoli Eh sì Napoli Eccolo Doc Venga su Che ora andiamo alla ricerca del bastione Eh Eh Aperola 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 Qua Qua non c'è nulla Ci vogliamo salvare le coordinate di sto buco Doc Ci facciamo un pillar Dai Ok Così dobbiamo riconoscere un po' Dov'è Pigment Qua non c'è nulla Ammazziamo Logling che c'è qua sotto Oh Ma è volato Joule Oggi sono Che senso Succa Sdoc Dov'è lei Doc Ah Eh Bello Che cazzo vuoi Aia Ma che cazzo fai Sei scemo Non lo so Allora ci serve Trovare Un bastione Che cazzo vuoi Dica Dica Un hopper Eh no Non ho hopper Sì sì concordo Anch'io lo dico sempre alla mattina Il porco Doc Com'è che questo non è bruciato Ah ecco Da questa parte Nulla eh Nulla nemmeno di là Doc Venga da me Posso mettere tipo FPS smooth No perché fanno più schifo Di prima Doc 2 Vabbè Fai resistance Ok Nel senso Ci sono i bastardi Che tirano le frecce Vai Prendi la lava Dove sei Eccoti Sdoc Dov'è lei Boh Eh utile Sei tu eh Sei una di quelle persone Che dici Minchia quanto è utile No Mi ha messo prima la lava Eh Seguo la mia strada Doc Seguo la mia strada Quale strada Che cazzo ne so io Guardi le mie coordinate In live Poi Niente Mi segue Oh Sto porco Brucia Oh La mia lava Un cibo cotto Un cibo cotto Oh Altra gente Resta fermo Eh un attimo Sdoc Sto prendendo Tanto cibo Dov'è il resto Dei porci Ehi Porco Vieni qua Oh Perfetto Ma il Doc Dov'è Io sempre Il braccio Buggato Così sì Così no Così sì Così no Dove siamo Ah ma sono Sdoc Sono praticamente Dove c'è il pillar Più o meno Andrò soltanto Su questa montagnetta Non mi muoverò Da nessun'altra parte Glielo giuro Ci mettiamo qua Perfetto Ok Sdoc L'aspetto qua Sempre a sapere dov'è Dettagli No non la vedo Sdoc Dov'è il Doc? Voglio sapere dov'è Eccolo il Doc Finalmente Venga Sdoc Andiamo Non lo so Di qua Stoc Ah eccola E lui mina il quarzo A lui piace minare Il quarzo Di qua Nulla Nulla nemmeno di qui Eh Doc Ma dove è andato Adesso E aspetta Dove 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 cazzo sei Yeah Su se le idee del Doc Lei si fa i funghi Vuole avvelenarsi con i funghi Questo Vabbè A questo punto Andiamo La Soul Sand Valley Quali biomi del Nether Ci mancano Due Sì c'è la Soul Sand Valley Porca putta Sei scemo Mi fai prendere i colpi Perché mi devi far cagare in mano Sempre Dimmi Ebbè Dei funghi Quindi Ah la zuppa di funghi Il piama blu Il legno che cercavo Non vedo l'ora di prenderlo Direi giusto di prendere un po' di oro Cosa ha fatto esplodere questo Adesso I creeper qua Non ci sono Ah Un ghast Oh Attenzione Oh porca putta Leviamoci dalle palle No Vabbè Mi manca Una pepita Per No Ma dov'è questo Ah là in fondo Mi senti via questi Uh Un portale rotto Anche se sinceramente non mi interessa Piuttosto il bioma blu Quale è una roba interessante Uh Anche un bastione doc Possiamo esplorare un po' di cose Doc Venga al bastione Andiamo prima a quello Venga venga doc Venga venga Dovrebbe essere Uno Stable Mi sa di sì Forse eh Non voglio dire una cazzata Però mi pare Una stable Uno Eh Forse è meglio se mi faccio qualcosa d'oro Prima Ok Ora dovrebbe Andare bene Sdoc L'ho vista qua sotto Venga Ah vabbè Lei va lì Va bene Io salgo sopra Allora io questi Li faccio crepare Così Perfetto Uno Aiuto Eh vabbè Anche io devo finire sempre dentro Alla lava Però Non vorrei creparci Sai Carota d'oro Oh ma Oh Ma c'ho un blocco sopra la testa Ma vaffan Oh Non voglio più fare però Salve Oh Oh no Che questi sono buoni Piccone commanding Nice Questi non mi servono Questi qui sono in più Che bel bottino Per me può anche andare bene così Sinceramente Ho trovato quello che mi serviva Più il piccone commanding È una cosa perfetta Che succede doc Dentro Qua sotto Ah la vedo doc Arrivo Eh ma lei Gioca con i bruti Chiaro che voi Però lei è stupido Il doc è un po' stupido Il doc è molto stupido Bisogna ben tapparsi Prima di fare le cose Come sto facendo io Ci si tappa così E poi si aprono le ceste Uh una sandebris Repping edge Questi non mi servono Là sotto C'è una chest Lei ha fatto pig wars Che advancement è? Non lo so La corsa di porci Non lo so Vedi ad esempio i bruti Io li ammazzo così Con la lava Chiaramente Non l'ho ammazzato Morirei adesso E mi hanno pushato Ehm No dovrebbero pushare Ma è in caso Sei tu che magari Hai fatto qualcosa Che non dovevi In questo caso Ci tappiamo così E poi apriamo la cesta Uh tante carote d'oro Ihhh Oddio lascio questa Perle Lasciamo lì Vorrei trovare Un altro An sandebris Forse nella cesta sotto Tu non mi fai niente Faccia di serpente Devi crepare Faccia di maiale Perfetto Poi saltiamo Oh no Oh Nice Direi che qua nel nether Potremmo utilizzare Le carote d'oro Altra roba Oh Ho sentito uno cadere Ok era un pigman Qua tappiamo E Vabbè blocco d'oro Altre carote Questo lo trasformerei Un altro blocco d'oro Là in fondo Stava più o meno Qua sotto No O no No Adesso questo mi vuole male E io ti frego Così Non mi puoi far niente L'unica cosa Ho perso il blocco d'oro Eh Potrei anche uscire dal bastione Anzi Forse è meglio Per evitare di morirci Dobbiamo uscire da qua Ok E ora abbiamo tutto il legno blu da prendere Perfetto Però qua sotto non Ok non ci Vabbè però il doc continua a crepare Io non lo so Io non lo so Io non lo so proprio Si è suicidato Ah Ma lei il doc è un È un arabo nel senso L'istinto ormai è quello No Strano E vabbè Pasticse Lol Molto lol Molto sussa anche Prendo un bel po' di legno Poi torno a casa C'è uno di quei tronchi grossi Ecco Nulla Sì invece un bel troncone Ok Qua un altro Bene Quanto abbiamo Uno stack Secondo me Due stack Dovrebbero andare bene Ma io l'ho dato al sole Tutte le mattine Mi alzo al cielo E grido Vabbè Questo A lui piace Suicidarsi È il suo istinto Ragazzi Se a lui piace Farlo Non glielo possiamo negare Sto un po' Accaldato Il ventilatore Non fa abbastanza aria Sono siciliano Non arabo Eh sì È vero Però Vivi a Roma Quindi Siciliano Non vive a Roma Toscana Eh Vabbè Sì Toscana Quel che Io non sono italiano Sdoc Si trattenga un po' Stasera La vedo che Eh Salve signor pigman Vabbè immaginate Che picchiavo il pigman Adesso l'adosso Non so come Mi piace Toc il suo istinto Vorrei un po' Più di legno Però eh Troppo La balestra Con i miei amici Hacker Aravi Allora lo vede Che non era Del tutto Normale Doc Clay Direi che così Di legno Ne dovrei avere Abbastanza Uno stack E 37 Ne prendiamo Ancora Giusto Per arrivare I tre stack Puliti So che non dovrei Lasciare gli alberi In metà Ma tanto Il nether Non c'entra Quasi mai nessuno Quindi Non è che Me ne freghi Più di tanto Salve signori piglin Ok sono pieno Doc ma lei è vivo Adesso il doc Non c'è per loro Con la Eh forse è sbagliato Pensare Attimo In cui scrivere Ma dov'è il gas Ah Ciao ciccio Sì Sparami la fireball Così faccio anche un advancement Grazie Gentile Sapete che cosa Vado pure nella Soul Sand Valley Così almeno Mi faccio l'advancement Eh Il mio cane Ha rotto un po' le palle Di abbaiare Sì Arrivo subito Ragazzi Vi dico di star zi A posto Signore Se il mondo Carica Sarebbe Ah ecco Grazie E ha ricominciato Ad abbaiare Tra un po' vado giù Dai miei E tiro giù Una di queste due parole Dio c***o Porco di Che non posso dire Bene E per oggi Gli advancement Ne abbiamo fatti abbastanza No Ci mancano poche cose Nell'overworld Nel nether Abbiamo fatto Tutti i biomi Beh Pian piano Sono tanti obiettivi Da fare Ragazzi Eh Taffac Ma io non sono mai andato Nell'end Bro Va bene Eh Ok No no Io non mi faccio domande Non mi faccio domande No no Doc Hacker Eh sì Doc Hacker Solo che adesso Dobbiamo tornare A casa Eee Dov'è casa? Allora Mi pare No Eh di qua no Ah sì Doc mi ha buttato giù Da qui Tutto Tutto Questo continua A suicidarsi Suo povero istinto Ecco qua Abbiamo fatti Pillar Lui torna Eh Doc Ma io non vado più Al bastione Ho un bel po' di cose Da portare via Anzi Sapete Lasciamo una traccia Di qualche blocco Salve Allora in teoria Ecco Là c'è il Devo arrivare là Quale miglior modo Se non Un ponte Sospeso Sì Così se cado giù Schiatto Anzi Sto punto Per essere un attimo In sicurezza In più No La torcia Non è un Pezzo Di ponte Ho quasi Finito i blocchi Magari sapete cosa Tiro giù La parella Così non mi entrano Le zanzare In camera Il Doc Zanzaroso Così 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 Perfetto Eccoci qua Ah no Dovevo scendere Giusto E ora Si torna a casa Pian piano Eh vabbè Si brucia Bello bruciare Magari evitiamo Basta Basta Spegniti Ok Voglio provare A vedere se va Discord No Sempre ping A 4500 Ah grazie per il follow Foxonix Buonasera Anzi Ola Oggi Purtroppo Sono da solo Perché il Doc Io ho Dei problemi Con Discord Quindi Dove Dove cazzo Sto andando Non sto capendo Ah qua sotto Facciamo così Tappiamo qua Salve Eh buonasera Buon sus Buona fera Anche da Meragaf Finor Fox Le piaffo Stiamo a Discord Se vuoi Per me Va bene così Sinceramente Discord Per il momento Se ci tieni proprio a dargli un'occhiata Fai punto esclamativo Discord Vai pure a vedere Cosa c'è che non va Non capisco In che cosa Dove che non va Sono entrato nel Discord Eh non mi pare che ci sia niente Ah ma Il mio Discord Il mio Account Gentilmente Anzi il mio La mia connessione Diciamo che Non vuole tanto funzionare Ecco Non è il server Anzi sinceramente Per il server Non penso che per il momento Lo vado a cambiare Per quelle due o tre cose Che mi servono Va bene così Quello che intendevo Il tuo server non carica chunk Probabilmente il tuo pc Perché da me carica Bene Eh sì Il problema è Entrare e uscire dal nether Quello Ma che c***o Ma che c***o Bro Che c***o Ma perché Doc ma Le sembra il modo Su Vieni a ressarmi Già non Non c'ho voglia Di Madonna Doc la prego Non ho voglia Di crepare Ma io non lo so Eh ho 45 secondi Serve aver aperto MC No È privato Però Non è nulla Non sono stato io Eh certo Certo Doc Non è stato Lei Ti giuro Che se provi A toccarmi Solo una fottuta Cosa Madonna Che palle E vengo a salvare Utile Utile Sei utile Doc Lei è utile Proprio Sei proprio Una persona Utile Tu sei proprio Una persona Che Madonna È utile Non provare A toccarmi Le cose Perché guarda Che ti apro Il sederino Ci ho fatto Una fatica boia Non crepa Doc Doc Guardi Che io Non le voglio Bene Se lei fa Le cose brutte È forse Meglio se non Rischio di crepare Grazie Se puoi Ridarmi Tu Per favore Doc Il resto Della roba Doc Grazie Ma io non avevo Tutti sti secchi D'acqua E di lava Ma che cavolo Ok Sono stripper di Roblox Eh sì Buon per lei Grazie Doc Di avermi le dato Tu Ma che cazzo Doc Ma lei non mi ha dato Tutto Eh Lei è un po' stro 190 follower Medi di due spec Eh ma Che ti devo dire YouTube è un'altra cosa Twitch è un'altra cosa Doc Mi puoi ridare le mie cose Gentilmente Anche l'armor Eh Il Doc Rubacchiolo Grazie Sei stato gentile Per questo Ti darò Questo Perché sei stato di parola A parte l'enderpearl E il pane Però Eh Mo come risaliamo È un bel problema Allora Intanto Questi due secchi Sono tuoi Dove stai andando Fan di Emerald Eh sì Abbastanza Anzi forse troppo Non si nota Vero Non per questo Ho la texture E Però Ora Sono un po' incasinato Con l'inventario Eh Allora Questo qua Così Così Beh dopo Mi rimetto a posto Ma come hai fatto A morire di nuovo Ma Mi spieghi Toh Mangia Vabbè Mi spieghi Che hai combinato Qua sotto Ah Che bella caverna Ma scusa Eh Non so chi sia più stupido Tra i due Io che cado nel buco O lui che ricade Nel suo stesso buco No Diciamo che Eh Non penso doveva andare così Vero Doc Su Risaliamo di nuovo Doc le dico che non l'ha Riresso di nuovo Quindi Non sei rimorto Vero E vabbè Che imbecille Vai sali sali Vai sali sali Ma oh ma Oh Aiuto Doc Una porca putt Oh Che cazzo Basta Mettimi l'acqua Oh Imbecille Mi farò una scaletta a piedi Se lui è stupido Porca putt C'è una Già non si vede niente Non funziona lo stesso La Pec Ma va Forse devo togliere Vediamo se ora va Bene Eeeh Che bello Il Doc Che mi fa gli scherzi Lui è proprio un bimbo speciale Soul Sand No non ne ho Poi mi spieghi Perché hai dovuto Scavare tutto sto buco Per il content Ma va Fanculo Aspetti un attimo Che Ho fatto danno Direi che Posso risalire Poi possiamo chiudere Perché devo fare Un paio di cosette Con lei Dov'è la fine Di sta montagna Oh Dio mio Sto buco Ha già fatto troppe vittime Tanto via Sti secchi Madonna Stasera non è andata Molto bene Direi Allora Sistemiamo l'inventario Allora Oggetti che si indossano Loot Tipo ferro Perle Blocchi Li ho messi lì Frecce qua Stick Che è questo Molto meglio Adesso Finalmente a casa 1, 2, 3, 9 Ok 1 e 2 Perfetto Direi che per stasera Abbiamo fatto Abbastanza Casino Perché Cose belle Guarda qua Quindi Signori Per stasera Direi Che abbiamo fatto Tante cose E Quindi Sdog Se vuole dare La Buonanotte In chat Potrebbe fare una bella cosa Sa Grazie Signori Beh Non resta che dire Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.